Come è stato il primo impatto con questa attività di servizio? Il primo impatto con l'unità di strada è stato abbastanza forte. Uno si immagina sempre di trovare il classico senza tetto, uomo con problemi di dipendenze. In realtà la prima persona che abbiamo trovato è una signora che per età poteva essere mia madre. Quindi il primo momento è stato chiedere se sono pronto a fare questo tipo di servizio. Conoscono i nomi dei senza tetto che dormono in strada e la loro storia. Sanno chi non vuole essere disturbato e chi invece li aspetta per parlare un po'. Sono i volontari del CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, che una sera a settimana, a turno, partecipano all'unità di strada. È 20.50 e la squadra in questo momento parte da Spazio 2, la sede in via 24 Maggio. Sul furgone coperte, indumenti, acqua, tè, cibo, cassetta del primo soccorso e defibrillatore. Prima tappa la stazione, poi Piazza Cavalli, le vie del centro e le zone limitrofe. Sono circa 150 le persone che dormono in strada a Piacenza. Con quante persone vi fermate a parlare mediamente ogni sera? Dunque mediamente siamo sempre attorno alle 15-20 persone. Molti cercano di trovare un sistema per trovare un'abitazione, un alloggio, quindi ci chiedono informazioni su come poter accedere alla rete di servizi che mette a disposizione la città. Altri invece, la componente, diciamo, di coloro i quali vengono da un paese extracomunitario, sono più interessati invece al permesso di soggiorno. Come hai iniziato questa esperienza e perché? Diciamo che è stato un po' un impulso, un istinto. Io ho sempre, come dire, nella mia vita amato fare formazione per metterla a disposizione degli altri, quindi mi è sembrato un ultimo modo questo per poter mettere a disposizione quelle che sono le mie conoscenze, e la mia formazione a favore delle persone meno fortunate. Forse quelli più impattanti sono quando attraversiamo la stagione invernale, quindi quando le condizioni meteo sono estreme e quindi quando le persone vertiche hanno proprio bisogno di una necessità fisica di essere aiutate. Scelte che si fanno, sbagliate, quindi poi non potendo più pagare l'affitto, varie cose, mollate il lavoro, mollate perché in certe situazioni, secondo me non si ragiona. A Piacenza è troppo difficile trovare un alloggio perché le garanzie che chiedono sono tante. Il futuro fa meno meglio? La speranza. Al di là dei bisogni strettamente materiali, queste persone hanno una grande necessità di parlare. Umanamente cosa vi portate a casa dopo queste serate? Umanamente tanto, soprattutto quello che ti porti a casa è umano, non ti porti a casa nient'altro che il premio psicologico di aver potuto fare qualche cosa di concreto magari per una persona che è in mezzo alla strada, che magari vengono ignorate dalla maggioranza delle persone che gli passano accanto durante il giorno. L'impatto emotivo è forte, difficile abituarsi anche per chi scende in strada ogni settimana.